C'è amiche, c'è amici, come essere di buon umore e godersi la vita? Il buon umore parte dal risveglio, parte dal mattino. Quindi quando ti svegli al mattino devi subito entrare in uno stato di armonia positivo. Quindi è consigliabile fare 5 minuti di meditazione. 5 minuti di meditazione ti aiutano a sintonizzarti positivamente. Poi 5 minuti di esercizio fisico intenso, flessioni, qualcosa che genere endorfine, corsa sul posto, saltelamento della corda. 5-6 minuti, non serve perdere tanto tempo. Poi una bella doccia che ti rigenera e nel frattempo prima di fare la doccia bere qualcosa di una tisana, qualcosa che ti dia energia, che purifichi. Ad esempio acqua e limone va benissimo, un bel bicchiere di acqua e limone, una bella doccia, una bella colazione e il caffè. E poi ti prepari per la giornata. Ma durante la giornata devi associarti alle cose che ti piacciono, quindi vivere il tempo presente nelle cose che piacciono. Ogni volta che ti capita qualcosa di positivo, di interessante, di piacevole, amplificalo. Cerca di essere curioso o curiosa, di esplorare una possibilità, di fare qualcosa di diverso, anche dei piccoli cambiamenti che ti possono dare emozioni. Quindi vai a fare delle cose che ti possono dare emotività, questo è fondamentale. E cerca di dissociarti dalle cose che non ti piacciono. Se per dire il capo ufficio, che ne so, ti cazzo, tu neanche stai a sentire. Dili di sì e non stai neanche a sentire. È molto importante imparare questa tecnica di associazione e di dissociazione. Bisogna associarsi alle cose che ci piacciono e dissociarci da quelle che non ci piacciono. Quindi, e puoi fare qualcosa che ti appassiona durante la giornata. Ogni giorno viverti delle emozioni. Prenditi dei tempi per te stesso o per te stessa, in modo tale che questo sano egoismo, tra virgolette, ti metta al buon umore, ti metta alla motivazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!